Buongiorno, ragazzi, oggi parliamo di l'utilizzazione di questi tre mots che sono molto importanti in francese nella lingua. Allora, oggi parleremo di queste tre parole, signore, signore e signorina, che bisogna imparare a utilizzare correttamente. Suonano così in francese, monsieur, madame e mademoiselle, che è abbreviato suona mademoiselle, monsieur, madame. Leggetelo monsieur, non monsieur, monsieur, è più chiuso, è più veloce, diciamo. E bisogna un po' riflettere sulla struttura di queste parole, signore, signora e signorina, perché come potete vedere in francese si tratta di nomi composti da due parti. Esattamente, monsieur, cioè mio signore sarebbe, due parole insieme, madame, mia signora, e mademoiselle, mademoiselle, ossia mia. Damigella, cioè mia signorina, ok? Quindi, ragazzi, si tratta di tre nomi composti, in quanto tale bisogna stare attenti al loro uso in francese, perché come potete vedere c'è un aggettivo possessivo, mon, ma e ma. Quindi bisogna usarli correttamente. Al plurale, infatti, tutti e due gli elementi vanno messi al plurale. Quindi, monsieur diventerà messi, cioè signori sarebbe, no? Madame diventerà mesdame, e mademoiselle, di conseguenza, diventerà mesdemoiselle, ok? Bisogna quindi utilizzarli in questo modo. Voyons quelques exemples que je vous ai preparés. Je vous présente madame Girardin. Je vous présente la signora, eccetera. Poi, tu as vu, monsieur le professeur? Ecco, vedete, il signor professore, l'articolo va messo dopo, perché scopriremo che l'articolo non va mai messo davanti al monsieur, perché mon, come vi ricordate, è un aggettivo possessivo, e davanti agli aggettivi possessivi non si può assolutamente utilizzare l'articolo. Mesdames et messieurs, signore e signori sarebbe, no? Mesdames et messieurs, le spettacolo va commencer, cioè lo spettacolo sta per cominciare. Trattandosi, come dicevamo, di nomi composti, con un aggettivo possessivo, non va mai messo l'articolo defini accanto, a meno che non si rimuova il possessif. Quindi, se togliamo il possessif, l'articolo lo possiamo usare, la parola quindi cambia. Per esempio, e per voi, mademoiselle, qui, qua abbiamo ancora il possessivo dentro, quindi, e per voi, no, signorina? Ecco, poi, monsieur et madame vont rentrer terre, cioè il signore e la signora torneranno tardi. Vediamo quindi l'esempio che dicevamo poco fa. Tu connais les dames, oppure les demoiselles là-bas? Conosci le signore o le signorine laggiù? Visto che ho messo questo les davanti, che è un aggettivo, eh, ciao, scusate, un articolo determinativo, non posso tenere mes dames, col me possessivo. Vedete? Va proprio tolto, perché altrimenti non si può in francese. Dicevamo, però, questa regola, diciamo, ha un'eccezione, perché monsieur, invece, va tenuto anche l'articolo. Fa proprio eccezione, perché suonerebbe male le cieux. E' una forma troppo antica, forse medievale, ma comunque, monsieur, quindi, invece, resta invariato. Vediamo, quindi, ce monsieur, qui c'è un dimostrativo, ma è uguale, è la stessa cosa. Quindi, ce monsieur, questo signore, no, attend depuis une demi-heure. Quindi, ce monsieur, qui devo tenere il determinante, si dice, no? E' il ce, la regola dei determinanti, diciamo, la spiego con l'uso di se e il è. Vi invito, quindi, a vedere anche quella regola e a ripassarla, se l'abbiamo già svolta. Quindi, ce monsieur, questo signore, aspetta da una mezz'ora. Quindi, depuis une demi-heure. Quindi, questo depuis vuol dire da, eh. Comunque, dicevamo, la forma monsieur-dame esiste, quindi monsieur-dame, attenzione, perché si usa nella lingua parlata solo come vocativo. È un abbreviato di monsieur e mesdames, mesdames et messieurs, però si usa, diciamo, più nel parlato veloce. Quindi, monsieur-dame, bonjour, signore, signori, buongiorno, no? Monsieur-dame è più veloce di mesdames et messieurs, che è più solenne, no? Lo fa, magari, un annunciatore di uno spettacolo in tv, oppure a teatro, insomma, mesdames et messieurs, insomma, ecco, questo è. Dicevamo che, quindi, esistono delle abbreviazioni tipiche anche della lingua scritta, ok? Quindi abbiamo, eh, signor, come anche noi in italiano le usiamo, no? Ecco, monsieur, nell'abbreviato dello scritto, quindi signor, non so, guagnini, ipotesi, monsieur guagnini, diventerebbe scritto così, con la M, come in inglese, no? Sembra quasi simile. Ecco, M, quindi monsieur. Invece, madame, dovrò scriverla così, madame, con la M e piccolina, da parte, vedete, signora, vuol dire. Mentre mademoiselle, dovrò scriverla con due L e una E. M, mademoiselle, vedete? Quindi, nello scritto, dans les lettres, per esempio, nelle lettere, per esempio, dovrò fare così. Quindi, attenzione, ragazzi, questa regola va imparata bene, perché sono parole di uso estremamente comune, e vanno imparate come si deve. Donc, les enfants, j'espère avoir été complet et clair. Si vous avez des doutes, écrivez-moi sans souci. Donc, à très bientôt, et bonne étude, bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada